La notizia del giorno con cui apriamo il nostro punto di tutto mercato web è l'infortunio molto grave di Claudio Marchisi occorso quest'oggi in nazionale a Coverciano, un infortunio che costringerà il centrocampista bianconero a star fermo fino alla fine di questa stagione. Di cosa si tratta? Ce lo spiega Marco Conterio. L'infortunio è davvero molto grave, 6-8 mesi addirittura l'infortunio del centrocampista della Juventus, ovviamente aggiornamenti che arrivano continuamente e che oggi su tutto mercato web vi proporremo fino a tarda serata nella giornata di domani ed in settimana quando Marchisio si opererà. Per cosa? Una lesione subtotale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, un infortunio che come ha spiegato anche il professor Enrico Castellacci, il medico sociale della Nazionale Azzurra, Marchisio si è procurato da solo durante la seduta di questa mattina, Marchisio doveva giocare, avrebbe dovuto giocare da titolare contro la Bulgaria, ovviamente fuori dai convocati, il ragazzo sta tornando direzione Torino e probabilmente come detto si opererà in settimana Villa Stewart a Roma. Stagione finita, anche l'estate la preparazione non la farà, Marchisio tornerà a stagione in corso il prossimo anno, un gravissimo problema per la Juventus che dovrà fare a meno di Marchisio e di Pogba per le due partite contro il Monaco, oltre ovviamente a fare gli auguri ad entrambi, alla Juventus e soprattutto oggi al centrocampista Azzurro, diciamo che la Juventus adesso cambia tantissimo Lorenzo. Cambia tantissimo e Allegri potrebbe riproporre il 3-5-2 a questo punto? Credo di sì, credo di sì, credo che a questo punto possa cambiare tatticamente la Juventus, anche perché senza Pogba con Pirlo che comunque rientrerà dopo la sosta e quindi non è al top, è una Juventus che deve gioco forza cambiare, senza Pogba, senza Marchisio con Pirlo non ha il meglio, i centrocampisti e il vecchio conto della Serva rimane Vidal, Pirlo vediamo quando tornerà al 100%, poi c'è Sturaro, c'è Paduin e c'è Pereira, un po' pochi per averne quattro, ovvero i tre più il trequartista, da immaginare che ci sia un ritorno al vecchio 3-5-2 magari già nelle prossime gare di campionato, vedremo se poi la Juventus darà tutto ovviamente a livello di spirito, però a livello anche di formazione in Coppa Italia, perché poi dovesse andare in finale, dovesse andare avanti in Champions League, insomma sarebbe davvero dura, è una Juventus destinata, suo malgrado, a cambiare tanto, soprattutto anche a livello tattico, senza Marchisio. L'infortunio di Marchisio si ripercuote ovviamente anche sulla Nazionale, che tra l'altro deve fare a meno di Pasquale e di Florenzi, sempre per infortuni, e dunque come cambia la Nazionale in vista della partita contro la Bulgaria? Simone Bernabei. Sì Lorenzo, ovviamente l'infortunio di Marchisio complica i piani di Conte, oltre che quelli di Allegri. Il CT in questi giorni aveva provato un 3-5-2 con la difesa classica della Juventus, quella formata da Barzagli, Bonucci e Chiellini. A centrocampo Marchisio avrebbe dovuto agire al fianco di Verratti, al suo posto dovrebbe giocare Soriano a questo punto, non escludiamo parolo, però insomma Soriano sembra favorito al momento. Dall'altra parte, al fianco di Verratti, ci sarà Candreva, sugli esterni Darmian e Antonelli, che andrà a sostituire Pasquale, l'altro infortunato. Davanti la coppia ignorante, formata da Zazza e Immobile. Grazie.